Danni per 5 milioni di euro se il campionato non riprende. A 24 ore di distanza risuonano ancora forti le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani di fronte alla ipotesi, tutt'altro che remota, che la stagione della Serie B sia dichiarata chiusa. Per questo lo stesso numero uno del Delfino è stato chiaro. Il calcio deve provarci, deve assumersi il grosso rischio di ripartire, affrontando le prescrizioni severissime dettate alla fede del calcio dal Comitato Tecnico Scientifico. Le mancate entrate peserebbero tanto sui club. Sebastiani ha anche affermato che una società come il Pescara impiegherebbe fino a 5 anni di sana gestione per recuperare il danno economico. Di fronte a questo spaccato molto preoccupante, Sebastiani ha comunque inteso dare rassicurazioni. Il Pescara, anche in caso di mancata ripresa del campionato, sarà in grado di iscriversi al prossimo torneo di Serie B, certo tra mille sacrifici. Ma tornando al discorso principale, ci sono i presupposti a queste condizioni per ripartire? Sembra proprio di no. Costringere i club ad andare in quarantena per due settimane è un disastro. L'interruzione del flusso di allenamenti per tutto quel tempo rende impossibile preparare al meglio il ritorno all'agonismo. Peggio ancora se il caso di positività è riscontrato dopo una partita. Le due squadre che si sono affrontate vanno in quarantena e le rispettive partite successive posticipate. Rinvii su rinvii per un calendario già compresso. La chiusura della stagione sarebbe compromessa. Il punto è che se non si accettano casi di positività, non si può pensare di chiudere la stagione, ma forse neanche di iniziare quella nuova. Perché fermare un gruppo per due settimane? Quando fare i tamponi dopo alcuni giorni potrebbe già dire chi si è ulteriormente contagiato e chi no. E chi non lo è potrebbe tornare subito in campo. Ripetiamo, questi quesiti valgono ora, ma varranno anche a settembre e ottobre, quando, stando sempre al mondo della scienza, un vaccino non sarà ancora sintetizzato. Gli ospedali saranno, si spera, svuotati, ma già ora non sono più sotto pressione. Così come sembra eccessivo riversare responsabilità penali sui medici sociali, che sono già sul piede di guerra, come dichiarato dall'ex responsabile dello staff medico azzurro, Enrico Castellacci. Si dovrà arrivare al dunque. Se l'aspetto economico, il volume di denaro che il calcio fa girare con tutti gli indotti che gli ruotano intorno, il gettito fiscale che garantisce, la stabilità del sistema, intesa come tenuta dei club professionistici, ha e avrà ancora un forte peso, il protocollo dovrà essere un minimo alleggerito. Altrimenti sarà durissima a ripartire. Sono ori importanti perché la versione definitiva del protocollo non c'è e va ancora validata, fermo restando che il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo di consulto, ma la scelta resta sempre in capo al decisore politico, il Governo, e dunque il Presidente del Consiglio e il Ministro dello Sport.